Sì ragazzi, dovessi... Abbiamo perso! E allora cosa vorresti fare? Me ne torno a Ovest, a casa mia. Te ne vai? Ma è diserzione! E allora sparami! Ecco, non posso accettare. Dai tutto a qualcuno che non pensa che il mondo sia da buttare. E di agli altri che... Ah, lascia perdere. Addio amico. Comunicazione prioritaria a tutti gli agenti attivi. Sì, il responsabile della creazione e della diffusione del virus chimera variola, noto come influenza delle banconote o veleno verde, è stato identificato nella persona del dottor Gordon Emmerst. Il suo cadavere è stato trovato e identificato. L'autopsia mostra che è stato ucciso dal suo stesso virus. Fine messaggio. È ciò che vogliamo. Nessuno è meglio di te ora che abbiamo perso Kieran. Mi sicuro ci sono persone più adatte, solo che non vogliono. Neanch'io vorrei d'altronde. Hai guidato le truppe in battaglia, non sarà troppo diverso. C'è un sacco di differenza, Thomas. La guerra è in morte. Qui si tratta di vita. So preparare un'imboscata o chiamare un attacco aereo, ma non so nulla di agricoltura, fa bisogno energetico e via dicendo. Gli altri sì, però. Ma ci serve una guida, Odessa. Qualcuno che ci faccia rigare dritto. E non guardarmi così. Così come? Tipo senza di tissimo per tutti. Quindi ci stai? Eh, va bene. Mi hai convinto. Va bene. Alla prossima. Quanto vuoi? Diecimila? Ventimila? Puoi usare questi soldi per ordinare altri farmaci. È un'occasione d'oro. Quanto ti serve? Scorte per sei mesi per una famiglia di quattro persone. Non è così che funzionano gli antibiotici. Non dovresti prenderli di continuo. D'accordo. Allora, diciamo, cento dosi. Quanto vuoi per cento dosi? Duecentomila dollari? Te li faccio avere domani. Vediamoci alla clinica. Dammi le medicine e io ti do il contante. Quanto vuoi per cento dosi? 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 Avamposto alleato rilevato. Cattata trasmissione ostile. Cattata trasmissione ostile. Cattata trasmissione ostile. Dobbiamo stabilire delle aree riservate in tutta la nazione, accessibili solo da personale autorizzato e ufficiali governativi, compreso il Presidente. Queste aree saranno adibite allo stoccaggio di scorte destinate alle situazioni di crisi. L'attuale Presidente forse vuole chiudere questo dipartimento, ma noi abbiamo comunque intenzione di proteggere coloro che governano gli Stati Uniti e tutto ciò che rappresentano. Ancora non hai conquistato la... Abbiamo un ordine... Mi serve al centro venti Potomac. Am liam... Andiamo... ma avamposto alleato rilevato acqua potabile vicina trasmissione ostile rilevata avamposto alleato rilevato avamposto alleato ufficine avamposto alleato couro Wow. Wow. Avamposto ostile rilevato. Así. dispositivo elettronico rilevato